Siamo qui all'Afrio per il tradizionale torneo natalizio che quest'anno facciamo a livello nazionale, categoria pilotti, tornei che qui all'Afrio cerchiamo di fare con tutte le categorie, infatti a Befana riproporremo un altro torneo per gli esordienti, gli altri 13 e 14, un'attività di questa dei tornei che portiamo avanti parallelamente a quella federale, cerchiamo di aumentare il numero delle gare, dell'attività agonistica insieme è quello che è il reclutamento, cerchiamo di aumentare facendoci conoscere anche attraverso questi tornei in modo da aumentare anche il numero dei praticanti. Allora, prima di quanto teniamo più a Firenze, siamo stati ospitati dalla società in modo eccellente, organizzazione ottima, i bambini si stanno divertendo, speriamo di raggiungere qualche risultato migliore, speriamo di raggiungere qualche risultato migliore. bene per il proseguido del torneo, ma comunque sia, è un divertimento per me, la prima esperienza e soprattutto la prima esperienza per i tornei. Grazie a tutti! Grazie a tutti!